In questo video ci occupiamo di risolvere un integrale indefinito tramite il metodo di integrazione per parti. Ricordiamo che il metodo di integrazione per parti ha questa formula. Prendiamo, quindi, questo integrale come esempio. Si tratta quindi di andare a definire il fattore finito f e il fattore differenziale g' . f in questo caso è uguale al logaritmo naturale di x, mentre come fattore differenziale g' , x quadro. Questa scelta è motivata dal fatto che, se prendessimo come fattore differenziale il logaritmo di x, non avremmo un'integrazione immediata. A questo punto troviamo immediatamente f' di x, che è uguale a 1 diviso x e, tramite integrazione, g di x. Questa integrale è un'integrazione del tipo x alla n in dx, con n reale diverso da meno 1, il cui risultato è x alla n più 1 diviso n più 1 più una costante c. A questo punto abbiamo tutti gli strumenti per poter applicare questa formula. f di x sarà logaritmo naturale di x. g di x lo risolviamo, per quanto detto è x al cubo diviso 3 più una costante, quindi possiamo già mettere x al cubo diviso 3 meno l'integrale di f' di x, 1 diviso x, per g di x, x al cubo diviso 3 in dx. Possiamo quindi effettuare una semplificazione. Questa integrale è risolvibile, ancora una volta, utilizzando questa formula generale ed, in particolare, avremo che il logaritmo naturale di x per x al cubo diviso 3, la costante un terzo la possiamo portare fuori, sarà quindi uguale al logaritmo naturale di x per x al cubo diviso 3 meno un terzo x al cubo diviso 3, poiché n è uguale a 2, più la costante c. Quindi, il risultato finale, eseguendo le ultime semplificazioni, è questo. Abbiamo quindi visto un esempio di risoluzione di un integrale indefinito tramite integrazione per parti. �osi a a a a a a Grazie a tutti